Il cantiere chiuderà il 20 dicembre con più di un mese di anticipo rispetto al crono programma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via Ciarpaglini e via Chiarini restringimenti di carreggiata. Buorsti Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!